Salve a tutti e benvenuti all'undicesima lezione del corso QGIS per l'ingegneria idraulica. In questa lezione andremo a vedere come è possibile determinare l'ordine del bacino utilizzando il metodo di gerarchizzazione di Straler. In letteratura in realtà esistono differenti metodologie di gerarchizzazione. del reticolo idrografico che possono essere distinte in metodi da valle e in metodi da monte. I più famosi in realtà sono i metodi da monte come il metodo di Orton e successivamente modificato da Straler. Tale metodo prevede la seguente procedura di gerarchizzazione. Dalle sorgenti si originano i canali del primo ordine che sono questi riportati in arancio. L'unione di due canali aventi lo stesso ordine danno luogo ad un canale caratterizzato dall'ordine dei canali precedenti più 1. In questo caso ad esempio abbiamo ordine 1, ordine 1, si incontrano e danno origine a un canale di ordine 2. Due canali di ordine diverso danno luogo ad un canale avente ordine pari all'ordine maggiore dei due che lo generano. Ad esempio se siamo in questo caso abbiamo un canale di ordine 2 e un canale di ordine 1 l'incontro di questi due canali dà luogo a un canale ancora una volta di ordine 2 cioè pari al massimo ordine dei due canali che lo formano. Di conseguenza quando arriviamo all'incontro tra un canale di ordine 2 e un canale di ordine 2 diamo luogo a un canale di ordine 3. A questo punto prima di utilizzare l'algoritmo per determinare la gerarchizzazione del reticolo idrografico mediante l'algoritmo di Strahler è opportuno andare a modificare il DEM. Questo perché i DEM non elaborati come abbiamo visto nella lezione numero 0 che se volete vi riporto qui in alto possono presentare delle imperfezioni come delle depressioni o dei picchi. Queste imprecisioni sono il risultato di processi di acquisizione del DEM che devono essere assolutamente rimossi per poter effettuare delle analisi idrologiche corrette. Nella lezione numero 0 infatti abbiamo mostrato come è possibile effettuare questa operazione. Per chi non avesse visto la lezione ricordo velocemente i passaggi andiamo e cerchiamo Fill Sinks di Wang e Liu doppio clic in DEM introduciamo il bacino DEM successivamente deselezioniamo il Flow Direction e i bacini idrografici e andiamo soltanto a modificare il file andiamo su Esegui come abbiamo visto non è stato salvato il file in uscita naturalmente questa operazione io non l'ho effettuata in quanto il mio bacino DEM è già stato pulito questo perché in teoria l'operazione di pulizia va fatta a monte dell'analisi idrologica a questo punto procediamo ad applicare l'algoritmo di determinazione della gerarchizzazione del reticolo idrografico andiamo sugli strumenti di processing e scriviamo Stra Strailer Order doppio clic selezioniamo come elevazione appunto il DEM che abbiamo ripulito e andiamo successivamente a salvare lo chiamiamo Strailer Order andiamo su salva e andiamo su esegui a questo punto chiudiamo e possiamo osservare appunto la generazione del raster che riporta l'ordinamento dei canali facenti parte del reticolo idrografico a questo punto per modificare la visualizzazione di questo raster andiamo con tasto destro sul nostro raster e andiamo con tasto destro sul nostro raster Proprietà Simbologia Tipo di visualizzazione Banda, singolo, falso colore Su scala di colore possiamo ottenere anche la blues dopodiché andiamo in modalità Intervallo uguale Come numero delle classi mettiamo un numero pari all'ordine del bacino in questo caso è pari a 10 Questa operazione viene fatta in maniera tale da far sì che ogni canale sia caratterizzato da un colore differente A questo punto andiamo su applica Come possiamo vedere questo è il raster risultante Andiamo ad osservare se l'operazione è stata effettuata correttamente Per fare questo andiamo su un bordo e andiamo ad osservare che tutti i pixel che sono caratterizzati da questo celestino molto chiaro tendente al bianco sono tutti canali di ordine 1 che convergono fino ad ottenere un canale di ordine 2 Per leggere il numero del canale andiamo ad interrogare appunto il raster e selezioniamo Questi sono tutti valori pari a 1 L'unione di due canali di ordine 1 dà origine a un canale di ordine 2 così come precedentemente illustrato Così via l'unione di due canali di ordine 2 dà luogo a un canale di ordine 3 L'incontro di due canali di ordine 3 dà luogo a un canale di ordine 4 e così via fino a determinare il valore massimale del canale che nel nostro caso è appunto 10 come abbiamo osservato e molto probabilmente qua si è già formato Quindi possiamo concludere la lezione dicendo che l'ordine del bacino idrografico è pari a 10 Per oggi è tutto Se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale a mettere un like oppure semplicemente a commentare se avete dei problemi con questa procedura Grazie dell'attenzione Arrivederci alla prossima